Fedez e Giulia Ottorini sempre più vicini. Cosa è accaduto nelle scorse ore tra il rapper e l'amica? Dopo le dimissioni dall'ospedale Fedez è tornato a riprendere in mano la vita proprio come l'aveva lasciata per qualche ora. Il rapper è stato avvistato infatti in dolce compagnia di Giulia Ottorini, sua amica speciale con la quale le cose sembrano aver preso una direzione differente. La OnlyFanser e l'ex marito di Chiara Ferragni avrebbero trascorso insieme le scorse ore, particolarmente vicini in una discoteca. A riportare l'indiscrezione è il ben informato esperto di gossip Alessandro Rosica. Fedez e Giulia da giorni non si staccano più, anche ieri sera erano a far festa insieme, ha riportato il gossiparo. E non si tratta della prima indiscrezione di questo genere, visto che Giulia e Fedez erano già stati avvistati insieme lo scorso aprile, fotografati a Los Angeles, dove avevano partecipato al Quakella Festival. In quella occasione Giulia Ottorini aveva smentito il flirt con il cantante. La 21enne aveva postato un video sui social che aveva scatenato una girandola di speculazioni. Nel filmato, la giovane postava una frase enigmatica. Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutata in pubblico. Che ansia! Tuttavia, la situazione si era rapidamente chiarita quando la stessa Giulia, rispondendo alle domande dirette dei fan, aveva smentito qualsiasi coinvolgimento con personaggi dello showbiz. Vedremo se questa sarà una risposta di Fedez alla nuova storia della Chiara Ferragni o un semplice divertimento.